Cari fratelli e sorelle, si sta diffondendo la notizia dell'imminente apparizione della Madonna, un evento che si crede avverrà presto in un affascinante luogo italiano. Rimani collegato per sapere dove si terrà. Si sostiene che durante questa manifestazione divina, la Madonna stessa svelerà profezie e segreti destinati a illuminare il futuro del mondo, delle persone e della Chiesa. Tale rivelazione è di fondamentale importanza, poiché si dice che la Terra sia attanagliata da profonde colpe e peccati. La collina prescelta per l'apparizione sarà lo sfondo suggestivo di questo evento straordinario, che si dice avverrà in una fresca giornata d'autunno. Mentre il Sole si inchinerà all'orizzonte, una luna rossa emergerà dal buio, creando un'atmosfera mistica. E proprio in quel momento di magia e meraviglia, la Madonna si mostrerà in tutta la sua grazia e splendore. Coloro che saranno presenti e avranno la fortuna di vederla, saranno testimoni privilegiati dei segreti che la Madonna svelerà. I suoi avvertimenti preziosi risuoneranno nelle loro anime, chiamandoli a prestare attenzione e ad aderire alla preghiera, alla pace e all'amore. Si dice che attraverso una persona che gode di particolare vicinanza alla Madonna, il suo messaggio di speranza e redenzione sarà diffuso in tutto il mondo. La Madonna, in tutta la sua materna benevolenza, invita con amore e dolcezza ogni cuore a convertirsi, a cercare la purezza e ad unirsi a Gesù. Questa unione spirituale, rafforzata dal suo amore materno, promette di portare grazie e benedizioni a coloro che dedicheranno il loro cuore alla Madonna. Con un cuore colmo di amore e compassione, la Madonna dona il suo amore e la sua pace a tutti i suoi amati figli. In questa apparizione straordinaria, si spera che coloro che avranno la fortuna di vederla possano rinnovare la loro fede, trovare consolazione nei momenti di difficoltà e seguire il cammino di amore e speranza che lei indica loro.